In attesa del gran finale delle competizioni sportive scolastiche nazionali di atletica leggera allo Stadio Adriatico di Pescara. Momenti molto importanti per quanto riguarda anche l'inclusione per gli studenti. Atleti con diverse abilità, oltre 300 che si sono messi in gioco durante le giornate di gara, affermandosi ancora una volta campioni paralimpici nelle diverse discipline. Io arrivo dalla Sicilia, provincia di Trapani, e per me è molto importante venire e stare qua, perché sia come esperienza e come passione, perché ho sempre avuto questa passione di correre, fino a piccolo, poi ho iniziato a seguire dei professori e da lì è nata questa passione. Io praticavo il rugby, però ora non lo pratico più, perché ci ho perso la passione. Quindi sei passato dal rugby alla corsa? Sì, sì, sono passato dal rugby alla corsa. Anche se prima facevo, insomma, fino da piccolo, io e mio fratello facciamo sempre queste gare. E come ti sei trovato qui in Abruzzo? Io qui in Abruzzo posso dire che mi sono trovato benissimo, sia insomma con i compagni sia con gli avversari. Quando corro mi sento meglio e tutti i miei problemi li passo lì rispetto al rugby. Quante ore ti alleni alla settimana? Due volte a settimana. Beh, impegnati vuoi anche seguire la corsa oltre lo studio, no? Sì, ho fatto amicizie nuove e questa cosa mi porta ad avere amicizie sempre molto meglio di quelle che ho. Al di fuori dai social, meglio l'amicizia reale. Sì, esatto. Si parla di inclusività, lo sport al centro di queste giornate, ma quanto è importante non solo praticare sport ma condividerne i valori? Tantissimo, tantissimo. Ci siamo ritrovati qui, insomma, normodotati e ragazzi diversamente abili. È stato veramente emozionante. Cioè, vedere la felicità nei loro occhi, nei loro sguardi è importantissimo, secondo me. Lo sport unisce. Grazie. 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 Grazie.